Grazie a tutti. Ho ancora un'altra dedica che è, visto che abbiamo amici da Bazzano, ho una dedica a Piazza Marino, è a Giuliano, il grande Giuliano, concorso nato per 12 anni. E voglio fare una cosa sua, un suo tango, un suo tango che si chiama Aguardiente, tecnicamente al grappì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.